Ciao a BetTaste.it, è un momento di tennis e prima di vedere Borg McEnroe, prima di vedere il film sulla rivalità tra Borg e McEnroe, che non vediamo l'ora di vedere, ci spariamo La battaglia dei sessi di Jonathan Dayton e Valerie Ferris, due registi che amo molto, due autori di videoclip importantissimi per gli Smashing Pumpkins, Tonight Tonight 1979, tra le loro perle soprattutto per gli Smashing Pumpkins, e poi anche non particolarmente priorifici come il nostro amato Kenneth Lonergan di Manchester by the Sea, ma le volte che hanno fatto dei film Jonathan e Valerie si sono fatti notare Nel 2006 Little Miss Sunshine, che è un piccolo classico, come sapete, nel 2000, parecchio dopo, Little Miss Sunshine, Ruby Sparks che è un film che amo alla follia, è sceneggiato e interpretato dalla nipote di Elia Kazan e Paul Dano e poi adesso La battaglia dei sessi. Questo film racconta di una partita di tennis, ma non una partita di tennis ufficiale come quelle tra Bjorn Borg e John McEnroe, ma una partita di tennis di esibizione, che non fu solo una partita di tennis la chiamarono la battaglia dei sessi, fu l'incontro nel 1973 tra Billie Jean King e Bobby Riggs lui era un cinquantenne, maschio e sciovinista, sciovinista per gli americani vuol dire maschilista anzi, sciovinist pig è il loro insulto preferito, per noi abbiamo due diverse interpretazioni del termine sciovinista quindi un maiale maschilista e una lesbicona femminista, ok? e quindi era, diciamo, fu un incontro emblematico, non fu solo una partita di tennis perché era un'epoca in cui le signore giocavano a tennis ma non venivano pagate come gli uomini è un film quindi attualissimo perché è proprio di pochi giorni fa la trionfale dichiarazione di Patty Jenkins di aver accettato Wonder Woman 2 solamente, la regia di Wonder Woman 2 solamente dopo essersi messa d'accordo per avere la stessa paga che avrebbe avuto un uomo anche nel cinema c'è una profonda differenza e tanti pregiudizi e tanti luoghi comuni e la vicenda di Harvey Weinstein in un certo senso riguarda anche questo quindi nel tennis era la stessa cosa, nel 1973 già Billie Jean King si era arrabbiata con il capo del tennis professionistico maschile perché non pagava le donne come gli uomini è l'inizio del film e poi c'è Bobby Bobby è un uomo in forte depressione, è un cinquantenne, è un ex campione di tennis ed è uno che non riesce a uscire dalla depressione, guardate la depressione fa male e questo è un film sulla depressione e sulla rappresentazione questo è quello che mi ha colpito di più perché è tutto un film peraltro sul mentale che è molto importante nel tennis, io giocavo da giovane, mi piace molto come gioco è un gioco molto mentale, anche perché siamo soli, non è uno sport di squadra quindi i nostri demoni interiori ci vengono a trovare molto quando siamo su un campo da tennis e abbiamo molto a che fare con noi stessi ed è uno sport molto legato alla nostra tempra psicologica di questo parla la battaglia dei sessi di Ferris Dayton, un film che ho amato alla follia perché il tennis sembra che non ci sia e in realtà poi alla fine Thorne arriva prepotente negli ultimi minuti del film dove capisci tutto e cioè questa sorta di illusione da mago di Oz questa fortissima manipolazione psicologica che il mondo maschile esercita sul mondo femminile da sempre la vicenda di Weinstein e le reazioni vergognose nei confronti di Asia Argento in Italia lo dimostrano e quindi questo è un film dove Billie Jean che è sposata all'epoca ma in esplorazione della propria sessualità grazie a una parrucchiera sosia di Alba Rorva che è interpretata molto bene da Andrea Reisborough che è sempre un po' lesbica come ai tempi di Birdman e quindi c'è una scena bellissima di questa donna che a quest'altra donna le dice sei bella, le tocca i capelli, il marito della parrucchiera, quanto è erotico il parrucchiere questo corpo che sentiamo dietro di noi, quanto è bello quando ci accarezzano la testa e la nuca Patrice Leconte fece un film su questo geniale, il marito della parrucchiera con Anna Galiena e ok, è molto erotica la scena dell'incontro tra questa parrucchiera e Billie Jean King Billie Jean King è sposata e pensa di essere bruttina in realtà questa donna le dice tu mi piaci, tu mi ecciti, voglio far l'amore con te le comunica questo, Billie Jean quindi è in un'esplorazione Bobby è in una desolazione, Bobby sta andando giù, Billie Jean sta andando su il film è geniale da questo punto di vista perché la partita di tennis sarà l'incontro di due esistenze che stanno giocandosi delle partite di tennis esistenziali molto diverse l'una rispetto all'altro Billie Jean ha 29 anni, Bobby ha superato la cinquantina i maschi, c'erano già state delle partite di esibizione, i maschi avevano battuto sempre le donne è tratto da una storia vera e forse questo film racconterà appunto una grande rivoluzione ma quello che mi ha affascinato di più è che Ferris e Dayton secondo me realizzano in modo piuttosto geniale dal punto di vista cinematografico è che attraverso l'esplosione del tennis negli ultimi 30 minuti del film è che mentalmente c'è un tipo di prevaricazione, c'è un tipo di strategia volta a dire alle donne da parte di noi uomini quanto devono stare al loro posto e bloccate nel momento in cui si supera come il mago di Oz questo tipo di illusione, questo tipo di incantesimo c'è il contatto con la realtà che sono gli ultimi 25 minuti del film e questo è geniale dal punto di vista cinematografico, è perfetto ho applaudito, non lo posso fare di solito nelle video recensioni perché Bernie me l'ha proibito però chissà, magari passa Emma Stone, stupenda, guardate come lavora con la bocca e che bel lavoro sulla bocca e Steve Carell, speciale nel ruolo di Bobby gli vuoi bene, provi pena per lui Tim Medesimi e Elizabeth Shook è sposata con questo imbecille mi ha ricordato molto un ex presidente del consiglio italiano di cui adesso non ricordo il nome un maschio pateticamente naufragante all'interno di un sistema gerarchico di esistenza anche sessuale che sta vedendo svanire davanti a sé e quindi ti fa anche un po' pena e Ferris e Dayton potevano fare qualsiasi cosa ma grazie a Carell e a come loro lo usano provi anche una certa pena infatti il problema, è molto interessante il film non è tra Bobby e Billie Jean o meglio Ferris e Dayton danno queste impostazioni il problema è proprio politico di società questo è stato un match che ha significato moltissimo è stata un'esibizione, è un film che parla di rappresentazione come rappresenta il proprio corpo e la propria sessualità un maschio dominante, un maschio alfa anche se è brutto e anche se somiglia al fratello brutto di Peter Sellers com'è cambiata com'è cambiata l'estetica anche della rappresentazione del maschio rispetto a oggi e invece una donna che è incapace perché ha anche paura e si caca sotto giustamente di rappresentare la propria sessualità di metterla in scena è tutto un film su questo sulla rappresentazione sociale delle nostre identità sessuali e di come siamo molto affascinante cambiò tutto e capisco che sia un film importantissimo per il movimento LGBT ma anche per tutti noi che non siamo LGBT anche per Mediocri Eterosessuali perché racconta anche l'eterosessualità un certo tipo di eterosessualità quella del Bobby Riggs che è un caso patetico che mi ricorda proprio quella persona italiana che faceva tanta arrabbiare Totò Rina ok? Va bene Ciao Betteist buon film La battaglia dei sessi Jonathan Dayton e Valerie Ferris bellissimo film che ti cresce dentro Blade Runner ti crolla dentro questo ti cresce dentro col passare del tempo Ciao Betteist